Tra le varie tragedie provocate dal comunismo ce n'è una che ha investito un paese intero, la Germania Est, un popolo che a un certo punto comincia a vincere le Olimpiadi, vincono e diventano i principali rivali degli Stati Uniti. Sì, però il problema era che tutto questo era stato organizzato scientificamente attraverso il doping di Stato e oggi noi raccontiamo una storia emblematica, Cornelia Ender, una grande campionessa macchiata per sempre da un doping che ha investito un intero sistema, un intero paese.